La sensazione è che la sua creazione non sia un gatto Qua ti è ucciso? Ti sei sparato con l'acce granate Non lo voglio commentare Ti sei sparato con l'acce granate, food Non lo voglio commentare Non lo voglio commentare Beh, una cosa c'è difficile lavorare con me Il fatto che muoio con un sculto Eh, si Ragazzi, credo che questo sia un ascensor E ce n'è un altro lì, andiamoci Tu dovresti stare zitta Food, devi scorreggiare nella vasca Lo smetti No, 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 no Figlio di puttana Ok, ho qualcosa di fucile a pompa E qualcosa di non c'è granate Poi è finito Proprio zero secco totale, nulla Ho giusto la dignità da perdere Sto rotolando su Ecco un altro gioco, Kingdom Come Dove lo giocare Kingdom Come Vieni Ah, da solo, ok No Io ho visto che non è uscito niente Non posso correre Scusa che sono scemo Scusa